E' nato solo 159 anni fa, eppure ad oggi è lo sport più seguito e praticato al mondo. Salve, mi chiamo Luca D'Ambrogio e vi voglio raccontare la mia passione per il calcio, raccontando quando e dove è nato e come è fatto ad arrivare in Italia, e poi esponendo la storia del campionato italiano anno per anno dal 1970-71 fino ad oggi. Il calcio, anzi il football, è nato il 26 ottobre del 1863, alla Freemason Taver di Green Queen Street, nel rione di Evo Holborn, dove si riunirono 11 club di Londra per ratificare un nuovo sport. Ed è anche un nuovo regolamento, ovvero il solo uso dei piedi per spostare il pallone e un'impostazione meno violenta rispetto al rugby. E così nacque la FA, la Football Association, che fu la prima federazione calcistica. Nel 1872 ci fu il primo incontro tranzionale tra Scozzi d'Inghilterra, allo stadio di West Scotland Cricket Ground, e dove a seguire ci furono 4.000 spettatori, dove però la partita finì in pareggio 0-0. Nel 1885, in Inghilterra, con l'amento di persone che volevano giocare a calcio, la Football Association riconobbe il professionismo, ovvero un minimo compenso indennizzo per le prestazioni agonistiche calcistiche. Un altro momento importante per la crescita del calcio fu l'istituzione dell'IFAP, International Football Association Board, nel 1886, ad opera delle quattro federazioni britanniche, che sono Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda, per avere un regolamento unico delle regole del calcio. Ora però spostiamoci nei nostri confini, dove il primo club italiano fondato ancora esistente fu il Genoa, il 7 settembre del 1893, quando un gruppo di cittadini britannici andarono a Genoa e fondarono il primo sudalizio, il Rosso Blu. Il primo campionato italiano si istituì il 26 marzo del 1898 a Torino, dove nacque la FIF, Federazione Italiana del Football, sotto la presidenza dell'ingegnere Mario Vicari. Il primo campionato italiano si giocò in un solo giorno, ovvero l'8 maggio del 1898, e vi parteciparono quattro squadre, che erano Torinese, Internazionale Torino, Genoa e Ginnastica Torino. E alla fine vinse il Genoa, il primo campionato italiano, in finale contro l'Internazionale Torino per 2-1, dopo i tempi supplementari. Dopo l'8 maggio 1898, Ginnastica Torino, ogni anno in Italia c'è e c'è ancora il campionato italiano, il campionato che appassiona e fa gioire ed emozionare il pubblico italiano, e non solo.